Nell'ultimo consiglio regionale la mozione del consigliere Borreccino, la risposta del governatore di Puglia Michele Emiliano che dice potenzieremo il pronto soccorso del Santissima Annunziata. Noi siamo con il direttore generale Rossi, dunque si va verso questo potenziamento che significa poter offrire ai cittadini maggiori spazi e soprattutto più velocità. La Regione per il tramite dell'Asset, che è l'Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio, uno dei bracci famosi del sistema Maya, ha offerto una progettazione che serve a rimodulare il pronto soccorso del Santissima Annunziata che ovviamente risente del fatto di essere stato realizzato ormai un po' di anni or sono. Quando le esigenze del pronto soccorso erano diverse, quando quell'iperafflusso che contraddistingue tutti i pronto soccorsi d'Italia ovviamente non c'era. Quindi grazie a questa riprogettazione stiamo facendo molti più open space. Stiamo arrivando ad esempio tutte quelle stanzette del lobby, dell'osservazione breve che esisteva, che un po' irrigidivano gli spazi e la fruibilità del pronto soccorso. Quindi open space con shock room, con otto posti letto per i traumi più gravi, separati da separate tende mobili, un po' come vediamo oggi nei telefilm americani. Questo consentirà di avere, col poco personale a disposizione, questo ricordo è il problema dei problemi del sistema sanitario nazionale. Non ci sono medici? Ci sono pochi, ce ne saranno sempre di meno. Quindi quei pochi ci dobbiamo fare bastare. Utilizzare gli spazi in modo diverso ci consente di avere con quei pochi medici una possibilità di governare meglio il sistema. Tempi? Ma guardi, la progettazione è ormai definita. Faremo un affidamento diretto, altrimenti non riusciremo. Ci manteremo ovviamente al di sotto della soglia comunitaria per poter far ciò e quindi riteniamo che nel giro di un paio di mesi i lavori potrebbero essere completati. Perfetto. Questa è la prima sala. Questa è la prima sala.